Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero i farisei e incominciarono a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. Ma egli con un profondo sospiro disse, perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. Parola del Signore. Non è a te o Cristo. Il Santo Vangelo vangere i nostri peccati. E' molto semplice chiedere dei segni. Chi di voi ha pensato almeno una volta nella vita se il Signore facesse un segno straordinario, eclatante? Sicché tutti, vedendo questo segno, sarebbero costretti a credere, e si toglierebbe di mezzo l'incredulità. L'avete pensato? Almeno una volta l'avete pensato, è vero? E' un peccato mortale questo. Gravissimo. Forse l'abbiamo pure detto, e quindi il pensiero, le parole. Poi tante volte ci siamo adoperati perché questo succedesse, è grave. Perché dico questo? Perché per chi vuole credere non ha bisogno di segni. E qualunque segno diventa insignificante per chi non vuole credere. Perché Dio alla fine ci lascia liberi. Il vero segno lo dobbiamo dare noi all'umanità. Il vero segno è la nostra risposta all'amore di Dio. E quindi dobbiamo veramente impegnarci a vivere la nostra vita di fede come una testimonianza vera, credibile, autentica. Gesù aveva fatto tanti segni, eppure non viene creduto. E non solo. Quando stanno per lapidarlo, dice Gesù, vi ho fatto vedere tante opere buone, per quale di questa mi volete lapidare? Alla fine se compiamo le opere buone che Dio ci dà da compiere, noi avremo persecuzioni. Abele cosa fece? Bene o male? Abele che cosa ha fatto? Ha fatto bene o male? Ha fatto bene. Abele? Sì, avete poche idee e molto confuse. Ok. Avete ascoltato? E meno male che abbiamo invocato lo Spirito Santo perché comprendessimo bene. Abele ha fatto bene o male? Ha fatto benissimo. Ha offerto e Dio ha gradito quello che Abele gli aveva offerto. Mentre non gradì ciò che gli diede Caino. E adesso li vogliamo guardare questi due fratelli. Allora, chi è a favore di Abele? Siete tutti a favore di Abele? Sì o no? Chi è a favore di Caino? Io sono a favore di Caino. Perché dice il Signore che non ce la dobbiamo prendere neanche con Caino. Noi non ce la dobbiamo prendere con nessuno. Se c'è una persona con la quale ce la dobbiamo prendere siamo con noi stessi. Per le volte che non facciamo quello che Dio ci dice di fare. E allora iniziamo. Adamo si unì ad Eva, sua moglie e quindi fa quello che Dio gli ha detto di fare. Crescete, moltiplicatevi, popolate la terra. Adamo sta facendo quello che Dio gli disse? Sì. E Adamo lo fa. E nasce Caino. E Eva mette Caino come segno di benedizione. Caino che significa lancia. Caino che significa qualcosa di robusto, di forte come segno di gratitudine a Dio. Bene. Nasce anche un secondo figlio. Eva, come ogni mamma che tira sempre per il primo figlio, anche mia mamma, santa, però il primo figlio era il primo figlio. Io il secondo genito, quindi anche perché poi chi è primo è sempre primo. Pensano di perdere la primogenitura e quindi cercano di coccolarli di più, questi primogeniti. Alla fine sono sempre raughiose però, dalle nostre parti, lamentosi, non so, sono quelli che creano sempre e così. Poi che figlio unico si prende i primi, i secondi, tutti, ecco. Alla fine, ecco, nasce il secondo figlio. Si chiamava come? Abele, che significa un ciusciune. Niente, una cosa inconsistente. Pure sta mamma che fa le disparità fra i figli. Però attenzione, cosa fa Caino? Che lavoro fa Caino? coltiva la terra. Chi lo faceva prima questo lavoro? Il papà lo faceva. Ad Adamo Dio diede un comando. Qual era il comando che gli aveva dato? Di custodire e coltivare il giardino di Eden. Gli aveva dato come lavoro. Faceva il giardiniere. Adamo. Alla fine, custodiva, faceva il giardiniere, lo doveva coltivare e la terra dava i suoi frutti. Il papà faceva il giardiniere e il figlio che cosa ha fatto? Il giardiniere. Il papà faceva il notaio e il figlio che cosa faceva? Il notaio. Il papà faceva il medico e il figlio che fa? E il figlio del figlio pure. La stessa cosa. Si tramanda. Va tutto bene. E quindi Caino stava facendo quello che era giusto secondo le logiche umane. Ma quando offre il suo sacrificio a Dio, Dio non gradisce quello che sta facendo Caino. Caino sta facendo quello che è nella logica e nella prassi umana. Sta facendo quello non che gli ha detto Dio, ma quello che gli ha detto suo padre. Si sta comportando bene però. Fino a lì si sta comportando bene. Abele invece che cosa fa? Cambia mestiere. Si fa l'allevamento degli animali. Offre a Dio gli agnellini e Dio li gradisce. Gradisce che lui fa non quello che gli dicono e gli altri che deve fare. Ma quello che lui sceglie di fare. Stiamo celebrando la messa per le vocazioni sacerdotali, alla vita religiosa. Chissà quante volte tante mamme di famiglia e tanti papà hanno incoraggiato i figli a dire no ma per chi da fare parrino? Trovate una bella mogliere. No ma per chi da fare monica? Qualcuno ti ha fatto qualcosa? Ti hanno molestato? Non sono tutti criminali mascoli. Ecco. Tante volte invece Dio ci chiede di fare quello che Lui ci ispira. E Dio ci lascia agire. Sempre. Vi do un altro particolare che non vi sfugga. Alla fine vi faccio una domanda. Abele parlava con Dio o Dio parlava con Abele? Dio e Abele hanno mai parlato? Risulta che abbiano mai parlato? No. Con chi parlava Dio? Con Caino. Chi hai Caino? Che ti è successo? Perché sei triste? No perché ti comporti così? Perché sei triste? Se tu fai il bene se tu fai ciò che è buono se tu fai ciò che ti dico io che è bene che ti faccio capire che è bene il tuo volto sarà sorridente sarà gioioso sarai felice osservando quella che è la mia parola tu sarai felice ma se tu non osservi la mia parola vedi che davanti alla tua porta e qui vi spiego un termine che si studia solo in esegessi in esegessi significa che per capire bene accovacciato alla tua porta sta il viene detto il peccato non rende il peccato un brutto bestia il rabbiso che è il demone il demone che è pronto appena tu apri la porta lui entra dentro e ti distrugge tutte cose ti devasta ti devasta ma se tu sei attento lascialo sempre fuori la tentazione lasciala fuori il vero combattimento non è contro tuo fratello ma è contro quelle forze ostili quel pensiero maligno l'invidia che io non guardo quello che ho ma guardo quello che hanno gli altri che bello giaccone cacciave che bel bastone che c'ha lo vuoi il bastone? attenzione che noi tante volte guardiamo sempre quello che hanno gli altri quello che fanno gli altri e noi pensiamo che a noi manca quello che hanno gli altri vorremmo quello che hanno gli altri e non ci accorgiamo che Dio ci ha benedetti molto di più poco fa i vostri fratelli vi hanno detto Dio ti ha benedetto Dio ti sta benedicendo più di me te l'hanno detto ma tu non ci hai creduto per questo tu stai pensando ad altro e dietro la tua porta c'è la tentazione e quando tu non resisti Dio gliel'ha detto prima a Caino questo stai attento che succedono guai se tu lasci entrare il demonio dentro di te succedono guai il Signore gradisce il sacrificio di Abele non sto qui a dirvi perché ha gradito il sacrificio di Abele e non quello di Caino quando eravamo picchioli al catechismo ci hanno detto che Caino ci desse caccioffole brutte specate mentre Abele gli aveva dato gli agnellini quelli teneri teneri Dio li aveva graditi ve lo ricordate che vi hanno detto questo non è così perché non è così perché quando Abele offrì non ve lo dovevo dire ma ve lo sto dicendo perché quando Abele offrì il sacrificio cruento del sangue in quel sacrificio è pensato già il sacrificio di Cristo che ingloba raccoglie tutti i sacrifici dal sacrificio del giusto Abele che diremmo nella preghiera eucaristica prima lo ricorderemo Abele è il primo dei morti assassinati il primo dei morti il sacrificio del giusto Abele viene accettato perché Dio gradisce il profumo perché Dio già sa quale sarà il sacrificio che compenderà tutti i veri sacrifici il sacrificio del sangue che richiama il sangue di Gesù ma ancora non era stata operata la salvezza ma Dio già sa tutto e Abele entra nella dinamica della salvezza alla fine Abele è in paradiso o è all'inferno in paradiso alla fine Abele il giusto va con il Signore sta con il Signore sempre ma ha ricevuto il battesimo Abele no eppure viene redento pure lui perché è giusto chiaro no? ok chiudiamo questa parentesi e quindi Dio non parla con Abele ma parlava con Caino e cosa fa Caino? Caino ci viene detta dalla traduzione ma non è giusta non è corretta non la comprendiamo bene andiamo alla campagna mi scemo fora uscire fuori andare fuori non significa che gli disse non si parlava anticamente non c'era la parola tra gli uomini non esisteva la parola la comunicazione avveniva in maniera diversa non so se mi state seguendo e quindi non fu un disse andiamo alla campagna ma lo spinse alla campagna vieni qua un attimo Agatha vi faccio l'esempio Agatha senza che io ti parlo ora lo spinse e lo portò dove lui voleva chiaro? non gli disse andiamo alla campagna io non gli ho detto siediti questo succede tante volte anche tra di noi esistono delle cosiddette comunicazioni non verbali delle violenze che io ti faccio fare quello che voglio senza che tu ascolta e senza che la parlo senza parlare ecco senza parlare non ci ho detto pigolo damme ca no e quindi capite no? ecco attenzione quindi lo spinge lo porta proprio all'angolo e lì alza la mano e uccide colpisce il fratello lo colpì e lo uccise alla fine tu puoi ammazzare una persona noi non sappiamo se veramente lo ammazzò o non lo ammazzò ma sicuramente lo uccise moralmente quante persone quante persone vengono uccise moralmente ah prendi un pugno di farina e tira l'enaria poi valla a raccogliere una calunnia non c'è bisogno neanche di dire una parola Agatha com'è la madre Badessa mi fa un sorriso e mi fa così non c'è bisogno di dirmi niente faccio un esempio madre Badessa com'è Chidda? ecco non c'è bisogno neanche di dire l'hai uccisa l'hai uccisa senza dire niente manco devi parlare chiaro no? ecco che Dio ci fa comprendere come tante volte noi possiamo veramente uccidere il fratello uccidere la sorella anche senza parlare Dio ci parla ci domanda cosa posso fare per te perché sei triste Dio si prende cura di noi Dio si è preso cura di Caino siamo noi che invece tante volte ammazziamo gli altri e dopo aver fatto il patatrac quando il Signore ci dice dove è Abele tuo fratello Caino mi figlio io con te parlo io parlo con te dove è Caino tuo fratello dov'è? cosa risponde? Caino non lo so sono forse io il guardiano il custodio di mio fratello se la vede lui forse l'avrà spinto e l'avrà buttata in un dirupo alzò la mano può essere che gli fece pure così quello può darsi che neanche lo colpì noi non lo sappiamo se l'ha colpito o non l'ha colpito se l'ha accoppato a noi ci hanno detto sempre che ha perso una pietra e gli ha fracassato la testa tu c'eri io sì tu eri figliuleggio ancora ne sapevi stico c'eravamo tutti nel pensiero di Dio c'eravamo tutti alla fine ecco noi non sappiamo come sono andate quelle vicende ma sappiamo gli effetti e quella domanda che Dio fa a Caino e la risposta che Caino dà al Signore è sempre un interrogativo ma perché sono io il guardiano di mio fratello ci devo pensare io a mio fratello non è raccomandato tuo non è quello che tu prediligi non è quello più santo più bello più devoto pensaci tu perché non ci pensavi prima tu che hai fatto Caino attenzione in quella domanda che Caino fa al contrario verso Dio sono forse io il custode di mio fratello sta la risposta sì noi siamo i custodi i guardiani dei nostri fratelli noi siamo responsabili dei nostri fratelli io sono responsabile tuo sono responsabile tuo sono responsabile tuo come ti chiamo manco saccio ma io sono responsabile tuo noi siamo responsabili delle persone che incontriamo di tutti siamo responsabili dobbiamo aiutare quelle persone che il Signore permette con le quali noi ci incontriamo ci relazioniamo ci interfacciamo con tutti non con quelli che ci piacciono o quelli che ci fanno simpatia o il club noi siamo responsabili di tutti noi abbiamo una grande responsabilità fratelli carissimi che è quella di custodire di attenzionare di beneficare le persone che il Signore ci manda ci mette accanto è troppo grande il mio peccato il Signore gli dice tu hai ucciso tuo fratello il sangue di tuo fratello grida quella è una vendetta che grida al cospetto mio grida dalla terra tu hai voluto nascondere tutto probabilmente l'avrà anche seppellito dice manco il Signore ci pensa no il Signore si ricorda anche del male che tu hai ricevuto quando eri piccolino ora si parla del bullismo delle cose il Signore si ricorda di quello che ti hanno fatto a te non ti preoccupare e non è masso capago sabato paga quando dice lui a tempo opportuno il Signore sa quello che deve a ciascuno il proprio se hai fatto bene ti ripagherà per il bene che tu hai ricevuto se hai fatto male quel male ti ritornerà da un'altra parte allora che cosa devi fare devi cambiare tu e se casomai hai fatto male scegliere in cuor tuo che quel male deve uscire devi metterlo alla porta devi cacciarlo questo demonio del male che altrimenti ti distrugge tu puoi scappare Caino andò ramingo fuggiasco tu puoi scappare da una situazione non vi è capitato mai di avere delle amicizie che si sono rivelati dei fallimenti a me sì non so a voi ma purtroppo e poi succede che hai altre amicizie basta quelle veramente sono insopportabili e ne arrivano altri peggiori ma ormai sapevamo era meglio ma ne tenivamo buone e tu li cambi cucancia vecchia canova sape chi ducalasse non sape chi ducalcioma e qui avanti andiamo di ciupescature e più rossi pigliamo perché erano i pesci ancora più grandi allora non dobbiamo cambiare gli altri non dobbiamo escludere gli altri dobbiamo escludere il male dalla nostra vita e cambiare noi nel modo di relazionarci essere amabili alla fine che ti possono dire che sei bravo che sei buono che sei gentile che ti possono dire non gli piaci perché no non gli piaci perché sei troppo buono tu sei troppo buono no no io non posso stare con te tu sei troppo buono va bene o sciega o cosa sciega o sciega e va a te lascia aperta la porta del cuore sempre chi vuole venire è il benvenuto chi se ne vuole andare è il ben andato alla fine ma non li devi spingere fuori tu se no li accoppi li ammazzi ne devono andare da sole no che devono fare tu altrimenti li stai cacciando tu con gli sguardi ciao no non devi fare niente non devi fare niente devi lavorare su te stessa cavecchia via cent'anni non ne hai ottanta ne hai superati gli ottanta non te li nascondere più ormai basta shh allora concludiamo cosa ci vuole dire il signore non è cosa tua quindi sei zitta ok shh allora cosa ci vuole dire il signore che noi dobbiamo prenderci cura dei nostri fratelli che noi dobbiamo dare questo segno l'umanità non ha bisogno di altri segni se non del segno dell'amore che ci contraddistingue l'amore di Cristo che ci contrassegna ci contraddistingue dagli altri l'affetto gareggiate nell'amore vicendevole da questo riconosceranno che siete miei se avrete amore gli uni verso gli altri e allora quelle parole del salmo che abbiamo ripetuto l'amore verso il fratello e il sacrificio gradito a Dio non il digiuno perché altrimenti stai facendo la dieta non le parole le filastrocche le giaculatorie oppure i rosari oppure tu non le fai inutile che dici che le fai tre al giorno quando mai ti controllo io ormai ti ho mandato quella badante te l'ho mandata io ti ricordi e quindi è lo stesso ma io te l'ho mandata perché ma io te l'ho mandata perché ti controllasse e io so quanto preghi e quanto non preghi anzi so che non preghi punto allora noi siamo veramente i custodi amabili di Cristo Gesù dell'amore di Cristo che devono amare i fratelli e nell'amore noi facciamo il sacrificio predito a Dio che non è il sacrificio né delle cose della terra né degli animali ma il sacrificio del nostro amore è quello l'unico che Dio gradisce allora ci dia il Signore questa grazia non tanto di metterci a parlare alla fine chi parla con Dio tutti vorremmo essere mistici santi avere le locuzioni interiori le apparizioni della Madonna guardate come gli è finita a Caino che parlava con il Signore direttamente manco con la Madonna manco con l'animo del purgatorio no no parlava con il Signore guardate come gli è finita io preferisco non avere queste locuzioni poi se il Signore mi vuole parlare grazie Gesù dimmi quello che devo fare e io lo posso semplicemente fare stiamo attenti alla fine è l'azione è la nostra vita è l'amore tra i fratelli che contraddistingue il nostro essere cristiani davvero pienamente allora con questi sentimenti continuiamo la celebrazione chiedendo al Signore di benedirci chiedendo al Signore di fare meraviglia nella nostra vita chiedendo al Signore la grazia anche di uscire da quei circoli non dico viziosi o virtuosi che sono quelli del fare sempre quello che si è sempre fatto tu non devi fare quello che si è sempre fatto nella tua vita tu non devi fare quello che si è sempre fatto devi fare quello che Dio ti dice anche nella vocazione cristiana tu devi fare quello che il Signore ti sta dicendo a Lui la gloria nei secoli dei secoli ci mettiamo in piedi c'è la preghiera dei fedeli e adesso fratelli del Signore ci concede quanto di qui che dà se ci rivolgiamo a tutti nel nome di Gesù pregiamo insieme dicendo il tuo amore Signore è da sempre il tuo amore Signore è da sempre perché i uomini che nell'odio e nella violenza è da sempre